Hi guys, Greer, I am il vostro cripto analista di fiducia e in questo video, dato che me l'avete chiesto in moltissimi, andremo ad aggiornare ciò che sta succedendo nella mia gestione del mio portafoglio personale. Infatti, sapete benissimo che sono una delle pochissime persone, sono l'unica persona che dimostra senza filtri quello che sto facendo nella mia gestione negli investimenti in criptovalute. Infatti, dimostro, come ho fatto anche nella scorsa puntata, tutte le mie allocazioni per quanto riguarda altcoin e bitcoin, ovviamente escluso la liquidità delle stablecoin. In questo video, infatti, voglio subito aggiornare, dato che nelle prossime puntate probabilmente ci saranno degli aggiornamenti, dato che andrò a fare delle manovre. Allora, partiamo immediatamente con la visuale con CoinMarketCap. Per chi non lo sapesse, ragazzi, ho utilizzo CoinMarketCap per la gestione del mio portafoglio, anche perché diciamo che ho i vari asset sparsi per exchange, ma soprattutto per hardware wallet, e di conseguenza sarebbe molto, molto complicato andare a mostrarveli tutti in tempo reale, ci metteremo veramente tantissimo tempo. Di conseguenza ho trovato questo strumento che ci mette a disposizione CoinMarketCap, che ci semplifica di molta la vita. Sapete benissimo quanto la mia allocation, adesso stiamo parlando di un 69,84% in bitcoin. Sapete benissimo che io ci tengo tantissimo a tenere stabile il mio portafoglio, per ciò che riguarda ovviamente il mercato delle piptolute, attraverso la ritenzione di bitcoin, perché ovviamente, diciamo, va a calcolare e soprattutto a accenuare l'alta volatilità che mi concerne per quanto riguarda questo settore, per il settore cripto. Attualmente ci troviamo con un 13,64% di detenzione di Ethereum. Infatti, sapete, in un quadro, sto utilizzando la tecnica del 0% bitcoin, 15% Ethereum, che attualmente è leggermente alibasso, dato un incremento per quanto riguarda gli altri asset, e tutto il resto in altcoin sugli visi in vari settori. Come potete vedere, poi abbiamo BGP, tra i top player, in questa posizione, perché credo moltissimo nell'exchange di Bitkit, dato che, sapete benissimo quanto gli utility token, i token ufficiali degli exchange centralizzati, possono essere definiti in tutto e per tutto delle azioni stesse dell'exchange. E, di conseguenza, se performa bene l'exchange, se acquisisce un only NFT, se fa profitti durante l'anno, ovviamente il tuo token ne beneficerà nel lungo termine. Stessa cosa per quanto riguarda BNB, ma adesso passiamo nel dettaglio. Infatti, ragazzi, potete vedere che Bitcoin, attualmente ne ritengo 1.09 BTC, che corrispondono a un controvalore in dollari attuale, che oggi Bitcoin sta a 40.000 dollari. Comunque sia il mio 1.09 BTC vale 47.840 robe. E, ovviamente, come potete vedere, il mio all-time profit, da quando ho iniziato ad investire, per quanto riguarda questo specifico portafoglio, ci troviamo a 31.100 dollari, praticamente un 84,83% di performance rispetto a quanto ho investito. Beh, la maggior parte, praticamente quasi tutto, 28.200 dollari, sono portati dalla mia entrata media, per quanto riguarda questo 1.09 BTC, ad un average buy price di Bitcoin che seggi intorno a 17.550 dollari. Passiamo al secondo player, che è anche il secondo che ne ha fatto fare più profitto. Qui abbiamo una performance molto più bassa. Diciamo che non ho preso ad un ottimo prezzo, almeno per quanto riguarda la stessa lavorazione di Bitcoin, Ethereum stesso. Infatti, ho fatto soltanto, tra virgolette, soltanto, stiamo parlando comunque di performance ottime, almeno ad oggi, che non è iniziata, al mio modo di vedere, la Burrana, dato che ci troviamo ancora prima dell'Albing, manca ancora minimo quattro mesi, anzi tre mesi e mezzo, dato che si stima che l'Albing ci sarà il 22 aprile 2024, comunque sia intorno a quei isomi lì. E comunque possiamo vedere che abbiamo un profitto di 2.000 dollari su un investimento di quattro Ethereum, che hanno un controvalore attuale di 9.241 dollari. In leverage, by price, si agisce intorno ai 1.790 dollari. Attualmente Ethereum si trova a 2.310. Come potete vedere, poi abbiamo Bitkit. Bitkit, che attualmente ha una performance di più 394 dollari, con un 25,64%. Ci tengo a ripetere ulteriormente che BGB contiene soltanto il 2.85% del mio portafoglio, perché ovviamente, a parte Bitcoin e Ethereum, tutto il resto dell'Albing, a prescindere di cui stiamo parlando, ragazzi, sono molto più riscosi e sono molto più volati. Ok? Anche perché sappiamo benissimo quanto Bitcoin sia di molto interesse istituzionale, probabilmente anche Ethereum, dato che ci stiamo aspettando una possibile approvazione, anche per lui, dopo Bitcoin, di un ETF spot e di conseguenza potrebbero entrare i big player a mercato. Gampini sono rimasti, vi dico l'abilità, dalla scorsa boot run. Ok? Infatti le ho liquidate durante la scorsa boot run, però diciamo che non ho liquidato tutte le posizioni, di conseguenza sono rimaste a comporre il mio portafoglio. Comunque sia, non è andata male, perché siamo comunque in profitto del 15,27%, che con un controvalore di 242 dollari di profitto, attualmente ritengo 5,87 BNB. Dopodiché abbiamo Polygon Matic, anche qui molto interessante, ho un average by price di 0,56 dollari e attualmente ci dovremmo a 0,81. Mi ritengo 1,210, ho una performance abbastanza interessante, del 44,75%. Credo che Polygon Matic, per quanto riguarda la prossima boot run, possa performare molto bene, dato che moltissimi analisti ritengono, come anche io, che l'Air 2, soprattutto di Virum, vista la possibile approvazione, sempre delle KF Sport, possa beneficiarne. Dopo riguardo al motor chain, Rune. Rune abbiamo una performance di più del 100%, con un gain di 4,73 dollari, ho un average by price di 2,3 dollari e attualmente le ritengo 100,1.5 Rune, che attualmente, ragazzi, come dice anche la performance, i pezzi di Rune è di 4,68. A neogradio successivo, ovvero Polkadot, Polkadot non ho intenzione di andare ad aumentare le size, almeno per adesso, possiamo vedere, ci troviamo leggermente profitto, un profitto del 19,46%, mi ho 125 e su un entrato, con un intanto a media di 5,9 dollari. attualmente il prezzo si trova leggermente sopra, si trova appunto a 7,059 dollari. Staremo a vedere. Solana, passiamo per Solana. Solana è un asset molto importante che ho intenzione in futuro di andare ad incrementare le messe size, qualora dovessimo arrivare a certi livelli. Certi livelli che affronteremo in una prossima puntata, perché infatti piace condividere anche i vari punti di entrata che ho intenzione di andare ad assumere per quanto riguarda i vari asset. Come ho detto prima, per Solana mi piacerebbe andare a continuare una situazione di accumulo, perché ne ritengo soltanto 8,46%. Quindi l'obiettivo è ad M almeno 15 o addirittura 20, dipende appunto da tutto l'asset allocation. Mi piacerebbe portarlo in terza o addirittura in quarta posizione, per quanto riguarda come peso a livello del mio portafoglio, sopra BGB o leggermente sotto. Comunque ritengo che sia una cosa molto più sensata andare ad implementarlo. Al di sopra di BGB, dato che ha un'importanza molto, molto più ampia rispetto a BGB stesso, dato che stiamo parlando di una blockchain, tantissime la definiscono come Ikidum Killer, anche se a me non piace definire Solana o chi per lui delle Ikidum Killer, quanto diciamo delle blockchain collaterali che possono affiancarsi in questo caso ad Ikidum per quanto riguarda una possibile funzionalità per il sistema blockchain a livello globale. Comunque, come potete vedere, attualmente sono un profitto del 152%, con una performance di 528 dollari. Attualmente ha un controvallo di 877.10 dollari. Comunque, arriviamo a Quant. Quant purtroppo siamo in perdita, ma secondo me, anche da questo punto di vista qui, data la CBDC's Stories, ciò vuol dire la narrativa che moltissimi paesi a livello globale stanno enettendo la propria CBDC's e Quant offre dei servizi essenziali per far funzionare sia la CBDC's sia per collegare il mondo tradizionale, il mondo che tutti noi conosciamo al sistema blockchain, dato che offre dei servizi plug-in proprio per ottenere un ponte di collegamento tra questi due settori, diciamo che, secondo me, nella prossima buona potrebbe avere un grosso potenziale. Sono comunque sia in perdita, infatti a me piace essere super trasparente e mostrarvi anche e soprattutto le perdite. Comunque, ho un'entrata a media di 145 dollari e poi ci troviamo a 107.67. Ho intenzione di andare all'accumulare almeno per arrivare a 10.40 qualora arrivasse a una soglia di 80 dollari circa e poi, come ho detto prima, in un prossimo video andiamo a mostrare perché proprio 80 dollari perché è un punto su una chart che è molto importante per andare a prendere. Comunque, passiamo su FaiCoin. In FaiCoin attualmente ci troviamo una performance leggermente in positivo. Infatti, mi trovo più un 11.67% di performance positiva con un 43.28 dollari di profitto ovviamente non realizzato. Ho 78.28 dollari anche qui stiamo parlando di un asset molto importante e se andiamo a vedere se dovesse qualora andare a recuperare i livelli dello scorso bull market ragazzi anche di R2 Ace che è l'ex CEO e l'ex founder di Mexture poi ci faremo un video del rifiato ragazzi secondo me potrebbe fare l'eternate delle performance dell'Ali passandola a 5 dollari per poi arrivare almeno ai 170 dollari se uno potrebbe durante la prossima board run raggiungerli senza problemi. Comunque sì anche qui leggermente profitto e ne detengo 78.28 Litecoin siamo in perdita di 225 dollari perdendo un 38.03% anche qui ragazzi sono dei Litecoin che mi sono rimasti dalla scorsa bull run diciamo che è soltanto una piccola arte del mio portafoglio perché durante la scorsa bull run ho liquidato praticamente la maggior parte dei Litecoin abbiamo Starks molto interessante soprattutto per quanto riguarda tutto l'ecosistema di applicazione per quanto riguarda la blockchain di Bitcoin mostriamo vedere siamo in profitto 152 dollari con una performance del 75.28% a un average price del 0.91 25 passiamo con Chainlink Chainlink molto importante molto interessante dato che stiamo parlando dell'oracolo per eccellenza e soprattutto è essenziale per far funzionare praticamente tutto il panorama che offre dei servizi come per esempio l'exchange come per esempio i DEX eccetera eccetera anche qui abbiamo una performance del 115% con un'etafa media a 7 dollari e ne tengo a 20.55 Link Pancakes Stavo parlando sempre del DEX più importante per quanto riguarda la Binance Smart Chain Binance Smart Chain che è la più utilizzata Chain attualmente in circolazione possiamo vedere che abbiamo una performance praticamente nulla siamo positivi del SEC di 35% avendo un'entrata mega 2.44 anche qui secondo me PancakeJu potrebbe fare molto bene nella prossima bull run possiamo vedere che nel 2021 avrebbero raggiunto dei clasici di 42 dollari e sarebbe un per 20 rispetto da oggi infatti moltissimi di questi asset ho intenzione di andare a rimemperli soprattutto per quanto riguarda le situazioni speculative poco prima degli old time high schools farò ovviamente mai ci arrivassero comunque sì andiamo a vedere Snack Snack ragazzi è un asset che io ho acquisito stiamo parlando di una memcoin molto speculativa è la prima memcoin che c'è attualmente sulla blockchain di Cardano e possiamo vedere che sono in pellita leggermente in pellita del 27,90% ovviamente per quanto riguarda questi progetti sono intanto con bassi capitali sono intanto con all'incirca 300 dollari poco di più o 320 dollari e attualmente sto perdendo 80 euro di livellamenti Hivemapper Hivemapper ragazzi è anche qui una posizione ultra speculativa sono in perdita a bel bing piselli del 50% perdendo quasi 80 dollari e attualmente detengo 1136 Honey Honey ragazzi è molto importante da andare ad approfondire e lo farò all'interno di un prossimo video dato che è una di quelle che ci può far fare veramente i 100 dollar dalla nostra allocazione e poi vi spiegherò anche perché per quale motivo è stata citata anche su un report molto importante di Banek per chi non sapesse che cosa è Banek è uno degli immettitori dei bitcoin di HiveSpot è un asset manager americano molto molto influente sul panorama ovviamente finanziario globale comunque non vi preoccupate perché vorrò approfondire anzi farmi sapere qui sotto nei commenti se volete un approfondimento specifico su HOME e soprattutto quale altcoin secondo voi devo andare ad approfondire Cadena Cadena è il mio peggior performer per quanto riguarda la mia asset allocation attuale ho un'entrata mega 3,95 questo è un'operazione del 73,87% con un controvalore di 615,66 dollari però a mio modo di vedere ragazzi è un progetto molto promettente non ho intenzione di andare ad accumulare ulteriormente ma anche al ribasto questa tipologia di asset da dove sono già molto esposto infatti come potete vedere ne è esposto con all'incirca 800 dollari che purtroppo ragazzi se avete venuto se fa parte del gioco mi sono andati contro passiamo con Cosmos Cosmos ha una piccolissima posizione che è rimasta dallo scorso bull market infatti ho soltanto 18,23 atom con un controvalore di 176 dollari anche qui stiamo perdendo 29,80 dollari che sono meno 14,45% Synthetix essenziale per la tokenizzazione degli asset fisici che potrebbe essere un'analisi che potremmo vedere durante la prossima bull runner soprattutto per quanto riguarda il settore finanziario tradizionale infatti si parla sempre di più di tokenizzazione di asset come commodities come stock come ETF e di conseguenza Synthetix offre un'opzione già pronta per questa tipologia di malattiva di conseguenza nonostante sia in megativo del 67,69% e il mio secondo peggior performance meno per 14,45 dollari secondo me potremmo fare molto molto bene attualmente do tengo 51 SNX abbiamo Tron che in realtà sono dei Tron che do tengo per fare delle operazioni proprio per quanto riguarda la blockchain di Tron stesso quindi questi qui nonostante sia dell'81 o del 77% non li ho compatti per l'investimento comunque possiamo vedere che abbiamo Cronos Cronos che mi sono rimasti la scorsa bull run attualmente sono leggermente impagno quindi ci ricordo tra il 70% ma essendo CRO o meglio Crypto.com o la degli exchange più regolamentati soprattutto negli Stati Uniti dato che non è mai ricevuto sanzioni della SEC o comunque sia bastonati dagli enti regolamentatori e manifani secondo me potrebbe fare molto bene soprattutto per quelle persone che si approcciano in primo luogo con Crypto.com ok ovvero nel mondo delle crypto utilizzando i principi di Crypto.com perché ragazzi vi ricordo che a differenza di BitGet che sono degli strumenti da tra bigoretta professionista o comunque sia di persone avanzate Crypto.com offre un ottimo portale di accesso per quanto riguarda il mondo delle crypto per le persone che sono alle prime armi andiamo su Kiran Binge a PitCat anche qui sono ultra speculativi infatti è un vestito come potete vedere 80 dollari anzi meno 70 dollari e possiamo vedere anche questa qui è uno degli asset ci sono ultra speculativi per soprattutto attornente stiamo perdendo un 58 19 per cento non ci faccio molto falso è letteralmente una scommessa ragazzi siamo arrivati alla fila di questo video fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate del mio portafoglio ovviamente tra qui e il prossimo o intenzione di andare o ad aumentare le mie allocations di questo point che già vi ho mostrato o comunque sia ho intenzione di andare ad inglobare vari altri asset se volete vedere i vari altri asset che appunto andrò ad implementare nel mio portafoglio fatemelo sapere qui sotto nei commenti ma soprattutto se volete delle approfondimenti per quanto riguarda un determinato asset piuttosto che un altro fatemelo sapere sempre qui sotto nei commenti ragazzi vi lascio sempre qui sotto in descrizione il link per iscriversi a Baidit che è l'exchange centralizzato che hanno il modo di vedere per fare training attivo sul mercato che è quello più interessante c'è un sacco di sign up bonus fino a 5.020 bonuses con mystery box soltanto iscrivendosi attraverso il link che lascio qui sotto in descrizione ovviamente ovviamente c'è il 20% di scuola su Theoring Fizzabvita da Ryan è tutto ci vediamo al prossimo video bye